Amici del teatro buonasera, sono qui in questo bel salotto, il salotto di Anna Malvica che saluto e ringrazio. Buonasera Anna. Io ringrazio te, buonasera, grazie. Allora Anna è impegnata in questi giorni, lo sarà fino al 16 di febbraio, domenica 16 febbraio, al Quirino con Liolail, il prodotto della migliore energia letteraria di Pirandello, cara Anna. Chi sostiene che sia in effetti una delle cose migliori che abbia scritto? Soprattutto perché sono più semplici anche da far arrivare alla gente. Assolutamente, è un testo adattato e diretto da Francesco Bellomo. Che è sempre il nostro ormai anfitrione da diversi anni. Ed è sempre un grazie signore. Sempre un grazie signore, dal Berretta a Sonagli in poi ormai siamo il gran gruppo che va, il gruppone di Francesco. E la nave va, e la nave va di Francesco. Allora, cerchiamo un po' di raccontare in pillole la storia di questo bel testo, no? Allora, diciamo che il sipario si apre su questo borgo marinaro di Porto Empedocle, che è un po' a due passi anche dalla casa nativa di Pirandello, tra l'altro, no? Noi abbiamo, cioè noi, Francesco ha desiderato che fosse più vicino al mare che non in mezzo alle montagne, insomma, in mezzo alla campagna. Come era originariamente. Come era originariamente, perché il mare è dominante in quella terra lì, insomma, è dominante. Lui è di agrigento, lui è tutto sommato, tra virgolette, un po' Pirandello, è un po' Pirandello. Insomma, si apre il sipario su questo borgo marinaro, c'è questo gruppo di donne, questo incessante vociare bisbiglio, tutte intente un po' a fare congetture, no? Su quello che accade in paese, no? Quello che accade in paese e a lavorare anche, dovrebbero anche nel frattempo lavorare per conto di questo Zosimone, devono raccogliere le mandorle per lui, fare la... Questo ricco possidente, no? Sì, questo ricco possidente, che aiuti, e noi lo aiutiamo. Aiutano lui, Zosimone, che è il più ricco di tutti, e aiutano anche un po' me, perché questa Zosimone, anche lei, è una che ha un po' di danaro, è benestante anche lei. Non è proprio una poveraccia, insomma. Però la roba gli interessa. Eh, la roba gli interessa pure a lei, molto. C'è qualche anche in questo testo dei risvolti verdiani, no? C'è assolutamente, perché è tutto sommato è proprio la roba che fa scattare quello che poi vedremo, insomma. E quindi tutto questo bisbiglio a un certo punto irrompe la figura gioiosa di Liola, questo Don Giovanni un po' impenitente, no? Questo nome celebre, perché ormai quando si dice, sai, facciamo Liola, tutti fanno, ah sì, lo so, lo sanno tutti e in realtà non sanno la storia di Liola, però sanno che Liola è stato, ed è un personaggio così importante della letteratura pirandelliana. Tu ne vedi, cento ne vuole. Insomma, un gran conquistatore, insomma. E quindi porta un po' di, diciamo, di sgomento, soprattutto tra le donne che incomincia un po' ad amoriggiare, cioè tipo, quindi, Tuzza, la figlia di Croce. Ma io non ne so niente, è tutto nascosto e avrebbe voluto farlo con Mita, ma questa Mita invece è sposata con Su Simone, quindi è stata una rosa che non ha colto al momento, ancora non è riuscito a coglierla. E quindi sono delle piccole soddisfazioni lui che ancora non si è preso, alcune se le sta prendendo, alcune se le è già prese perché non solo mette incinta delle fanciulle, ma quando le mette incinta, oltretutto, lui dice da gran signore, io dico da gran maschilista, si tiene questi ragazzini, se li prende lui glieli dà la madre, glieli ammolla la mamma e si tiene questi bambini, che secondo lui, tanto più figli ci sono, è meglio, è perché portano mano d'opera, sono mano d'opera per la campagna, i bambini. Quindi lui tutto sommato dice che male faccio, mi tengo questi bambini che fanno del bene a me e fanno del bene anche al paese. E poi c'è anche Sio Simone in realtà che soffre di una cosa importante, non avere un erede. Sio Simone in realtà, questo signore che ha sposato proprio Mita, che lui adorava perché lui avrebbe voluto sposare Mita, lì o là, ma non c'è riuscito perché Mita gli ha preferito Simone, in quanto è più economicamente molto più ricco, questo almeno è quanto noi, così l'abbiamo vista la cosa, e spingiamo molto il pedale dell'affarismo da parte di Mita. Mita ha fatto l'affare, è un po' calcolatrice, noi la vediamo molto calcolatrice, la accettiamo così e probabilmente anche Pirandello la vedeva così. Non lo dice esplicitamente però poi si intende, lo si fa capire. E insomma a lui gli è rimasta quindi questa Mita che non l'ha potuta amare, però in realtà Mita è sposata con questo Simone che al quale lei non dà un erede. Quindi più lui ne fa tanti, meno lei invece ne fa e questo meno zio Simone riesce ad avere figli. Quindi c'è questa lotta scherzosa fra uno molto prolifico e un altro affatto prolifico naturalmente. Quindi possiamo dire che questa è un po' una storia di inganni e interessi, no? Tutto inganno e di interessi. Quindi grandi ambizioni. Certo, ambizioni di raggiungere degli obiettivi. L'obiettivo di zio Simone è avere presto un figlio per poter lasciare poi la sua roba in eredità a questo bambino. Invece se non c'è il figlio questa roba andrebbe persa, dice lui. Come faccio? E questo a lui non piacerebbe affatto. Quindi l'interesse suo è questo. L'interesse di Mita è averlo sposato e quindi star bene economicamente però non riesce a dargli questo figlio e quindi i problemi nascono. E l'interesse di Leola sarebbe di amarla questa Mita ma non la può amare perché è sposata in realtà. E allora dato che non lo può fare con lei ci prova con mia figlia Tuzza e con Tuzza ci riesce solo. Però non svegliamo il finale. Non svegliamo il finale, no? Il finale mai, anche perché è un finale così bello che ha creato Francesco. Lo lasciamo aperto ma è forte, è tosto. È un bel finale tosto e siccome è un'idea veramente di Francesco non possiamo svelargli questo segreto. Il segreto di Francesco non lo possiamo svelargli. Allora Anna io la saluto, la ringrazio, è stato un piacere e quindi io ribadisco fino al 16 febbraio. Anna Malvica è al Teatro Quirino nel ruolo di Zia Croce nel Leola di Pirandello diretto da Francesco Bellomo. Io vorrei anche parlare dei suoi colleghi, assolutamente. Quindi il grande Enrico Guarnieri nello ruolo di Zio Simone, Roberta Giorruso, bellissima ruolo di Tuzza, sua figlia, Alessandra Ferrara che è fammita, poi c'è Margherita Patti, Zia Gesa, Alessandra Falci, la Moscardina, Sara Baccarini, Luzza, Giorgia Ferrari, Ciuzza, Federica Brici, Nela, c'è la Nadia Perciaposco nel ruolo di Zia, che è la mamma di Leola. Che nominiamo subito, chi è il nostro grande Leola pieno di vita? Giulio Corso, che ci sta dando delle grandi, non a noi solo ma al pubblico, sta dando delle grandi soddisfazioni in questa chiave appunto, molto giovanile, è un folletto, è il nostro folletto dei boschi e a noi piace l'idea. E poi vedo, grande energia di Giulio. Grande energia, è amato, poi coccolato da tutte queste donne che lo adorano, lo adoriamo tutti. È un gineceo. Sì, sì, siamo un gineceo intorno a lui e lui si lascia amare, devo dire, pur essendo sposatissimo, innamoratissimo di sua moglie, è contento di essere coccolato da noi, vedo che gli piace molto essere coccolato. Anna, grazie mille per l'ospedalità, buon lavoro e naturalmente buon teatro. Buon teatro sempre, sempre, il teatro non fa mai male, il teatro fatto bene non fa mai male, questo è il mio detto, va bene? Arrivederci. Grazie a tutti, grazie. Arrivederci Anna. Grazie. Grazie.